Su proposta della procura antimafia di Palermo, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani impone l'obbligo di dimora per tre anni all'ex senatore Antonio Dalì. Secondo la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, preseduta dalla giudice Daniela Troia, l'ex senatore Antonio Dalì è socialmente pericoloso e pertanto è obbligato a dimorare a Trapani per tre anni a fronte dei cinque anni proposti dalla procura antimafia di Palermo tramite il pubblico ministero Pierangelo Padova. E la magistratura palermitana lavora sulla presunta pericolosità sociale di Antonio Dalì dal maggio del 2017, il mese delle elezioni amministrative a Trapani, quando l'ex senatore è stato candidato sindaco. Lui, Antonio Dalì, è imputato dal 2011 per concorso esterno all'associazione mafiosa. In primo grado, in tribunale, giudicato in abbreviato, è stato assolto. E per le condotte precedenti, al 1994, è intervenuta la prescrizione. In appello è stato assolto. Poi la Cassazione ha annullato l'assoluzione, ha rinviato il processo ad un'altra sezione di corte d'appello. Secondo i giudici della Cassazione, nel pronunciare la sentenza di assoluzione, è stato illogicamente ed immotivatamente svalutato il sostegno elettorale di Cosa Nostra a Dalì. Il secondo processo d'appello a carico di Antonio Dalì è attualmente in corso a Palermo e la Procura Generale, tramite il PG Nico Gozzo, ha ottenuto il rinnovo parziale del dibattimento e quindi la possibilità, tra le altre, di ascoltare nuovi testimoni. A Dalì si contesta di avere contribuito al rafforzamento di Cosa Nostra, anche intrattenendo rapporti diretti o immediati, con esponenti di spicco come il latitante Matteo Messina Denaro e il padre Francesco, morto dall'attitante nel 1998. Nel motivare la pericolosità sociale di Antonio Dalì, la Procura di Palermo, tra l'altro, ha ricordato che il padre di Matteo Messina Denaro, Francesco, è stato campiere nei terreni di Dalì, in incontrata a Zangara a Castelvetrano. Poi i presunti incontri d'affari tra Antonio Dalì e il già inquisito per mafia Girolamo Scandariato, figlio del boss di Cala Tafimi. E poi un'intercettazione in carcere, il 18 marzo del 2016, in cui Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio, ha parlato di un senatore Dalì allegato a un latitante che stanno cercando. L'avvocato Arianna Rallo, difensore di Dalì, così ha commentato l'applicazione della misura preventiva personale alla sua assistito. Mi lascia certamente sgomenta e perplessa la decisione di accoglimento della proposta avanzata dalla Procura nei confronti del signor Dalì, per il semplice fatto che una lettura attenta e completa di tutte le prove documentali e testimoniali di persone altamente qualificate, offerte alla Tribunale, a fronte di illazioni e congetture di pentiti sedicenti, già delinquenti che continuano a delinquere, avrebbe dovuto indurli ad una diversa valutazione? L'assoluta estraneità del signor Dalì, dai fatti contestati gli, sarà fatta valere con il ricorso in appello. che siamo il perno di una coalizione e che, ripeto, adesso... Grazie a tutti. Grazie a tutti.